All'estremo più freddo, questo qui che ho indicato con la freccia, quindi tutto quanto sulla sinistra, la parte più blu, quindi all'estremo più freddo del nostro pubblico, abbiamo gli utenti che non ci conoscono, non sanno chi siamo, non conoscono i nostri prodotti, non sono consapevoli di avere un problema, non stanno cercando quindi una soluzione a questo problema. Sono le persone completamente ignare di quello che noi facciamo, completamente ignare della possibilità di acquistare un prodotto da noi e sono il pubblico che è più lontano possibile da noi e, aggiungo, più lontano possibile dal compiere un acquisto immediatamente. Dall'altra parte invece, nella parte più a destra, quindi la parte rossa che ho indicato con questa freccia, abbiamo i più caldi che sono le persone che ovviamente conoscono l'azienda, magari sono anche i nostri buyer, anche i nostri buyer sono un pubblico caldo perché ci conosce, conosce la nostra azienda, conosce i prodotti, si fida, conosce che c'è la possibilità di avere una soluzione a un loro problema e trovano in noi, quindi, l'azienda che può fornire loro questa soluzione. Ripetiamo quindi, all'esterno più a destra vediamo quelli che hanno già un'alta considerazione del nostro brand e del nostro prodotto, sono consapevoli di avere un problema e stanno attivamente cercando la soluzione. Viene quindi logico il ragionamento che, più il pubblico è caldo, più sarà facile convertirlo. Corretto, ma non possiamo limitarci a monetizzare solamente il pubblico caldo. All'inizio è possibile concentrarsi esclusivamente su questo tipo di pubblico, ma andando avanti però, con il tempo, sarai obbligato ad andare anche sul pubblico più freddo, fino a dover toccare anche il pubblico freddissimo ed educarlo al fatto di fargli riconoscere di avere un problema. Vediamo adesso come ci comportiamo a livello di comunicazione nelle ads, per le varie temperature di pubblico. Finché ti relazioni con un pubblico freddo, è importante posizionare l'azienda e il prodotto attraverso gli annunci. Devi rendere chiaro cosa fa la tua azienda, a chi ti stai rivolgendo e che problemi vai a risolvere. Ripetiamolo, questo pubblico potrebbe non conoscerti affatto. Stando all'interno di una realtà aziendale, conoscendo i prodotti, sentendo costantemente parlare dell'azienda, professionista o business, per te viene naturale e scontato conoscerla e sapere queste cose. Non lo devi fare però, non devi dare per scontato che il tuo pubblico sia a conoscenza della tua azienda, della tua realtà aziendale e dei tuoi prodotti. Quindi questo è un errore gravissimo che non ti consente di vedere nell'insieme tutto quanto il processo. Ma non è così per questo tipo di pubblico. Potrebbe aver visto in quel preciso momento per la prima volta il tuo brand o il prodotto. Potrebbe avere una considerazione negativa del tuo prodotto. Potrebbero non aver capito. È importantissimo in questa fase fare chiarezza, presentare l'azienda, i risultati, il cosa facciamo e spingere questo potenziale cliente fino a fargli compiere l'azione. In questa fase è estremamente importante ragionare sulla base del fatto che queste persone non sono abituate al nostro modo di comunicare. Quindi è importantissimo far arrivare il messaggio senza confondere e senza far scappare l'utente. Evita dei claims eccessivi. Non pompare il posizionamento facendo percepire al potenziale cliente che stai facendo lo sborone. Non serve e ti fa ottenere in realtà il risultato contrario. Preferisci invece le storie dei tuoi clienti, che hanno ottenuto giovamento proprio dove invece loro stanno soffrendo. Trasforma i tuoi risultati in quelli dei tuoi clienti, in modo tale da far percepire loro empatia e quella sensazione di se ce l'ho fatta io, se ce l'hanno fatta loro, posso farcela anche io. La comunicazione invece cambia, ovviamente con l'aumentare della temperatura. Arrivati al pubblico più caldo, che ci conosce, conosce l'azienda, i prodotti, puoi evitare il posizionamento eccessivo per concentrarsi sulla conversione, sul mostrare i risultati e fare call to action più dirette. Ovvio che questo è solo un ragionamento e che non esiste solo caldo e freddo. In mezzo ci sono 3000 sfumatori nella quale andare a modulare la tua comunicazione in base all'obiettivo che vuoi raggiungere. Quindi presta molto attenzione perché non è solo bianco e nero. Questo è un lavoro da fare e da testare nel tempo perché è importantissimo saper modulare il modo in cui comunichiamo e saper indirizzare il giusto messaggio al giusto pubblico. Un messaggio troppo diretto, un ad magari troppo incisivo che va subito al sodo e punta direttamente alla vendita magari può avere un effetto contrario, può avere un effetto disarmante nei confronti del potenziale cliente che invece non ci conosce e dice ma questi chi sono? Ma questa azienda che fa? Non capisce, si sente preso la sprovvista e preferisce non agire. È importante saper modulare tutto questo perché il tipo di comunicazione che utilizzi con chi ti conosce, con chi conosce la tua azienda, conosce il tuo prodotto e vai a rimonetizzare, vai ad invitare a un webinar di lancio, vai a fare delle promozioni di un certo tipo è completamente diverso rispetto alla comunicazione che deve avere con le persone che è la prima volta che si approcciano alla tua azienda. Grazie.